Il Ministero delle Politiche Agricole ha pubblicato un avviso per la misura parco agrisolare del PNRR per la realizzazione di impianti fotovoltaici. Con l'avviso vengono definite le modalità di presentazione delle domande di accesso alla realizzazione di questo progetto. Con la misura si potrà anche smattire i tetti esistenti per costruire nuovi tetti isolati, creando sistemi automatizzati di ventilazione e di raffreddamento.